Noi siamo entrati, quando io sono arrivato qua, l'Assemblea aveva una dotazione di 143 milioni ogni anno, siamo arrivati a 134, quindi già siamo scesi di 9 milioni rispetto al primo anno. E questo è soltanto dei risparmi dell'Assemblea, cioè non dov'è, come diceva all'inizio, che c'erano meno dei dotati, o che è stato il primo anno. Rispetto al primo anno siamo carati di altri 9 milioni, anno dopo anno, per cui il lavoro che è stato fatto di eliminazione degli sprechi, di lavoro costante per risparmiare, per utilizzare al meglio i dati che ci sono, sicuramente è stato importante. L'ultimo penso sarà lavata da qui a questa scadenza, peraltro non è delle cose di tipo politico importanti, che vanno dall'elezione del Capo dello Stato, all'elezione del Palermo, per le comunali di Palermo, dalle notizie che abbiamo anche a Messina, per cui diciamo c'è un'attività politica che sarà certamente molto importante, forse giusto nell'ultimo anno la più importante della legislatura. Grazie.